Musica Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura torniamo a parlare del tentato omicidio di Pozzo della Chiana. L'uomo che tentò di uccidere la moglie è tornato a casa agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Ha lasciato il carcere ed è tornato a casa il 53enne che lo scorso dicembre aggredì a Pozzo della Chiana la moglie di 48 anni a colpi di martello. All'uomo incensurato accusato di omicidio volontario aggravato dal legame familiare, il GIP del Tribunale di Arezzo Stefano Cascone ha concesso gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Sarà così controllato a distanza dall'abitazione teatro del drammatico episodio. La moglie, 48enne invece, si è trasferita in un altro alloggio. Era il 12 dicembre 2022 quando al culmine di una lite, probabilmente nata dalla decisione della moglie di separarsi, il 53enne afferrò un martello colpendo più volte la donna alla testa. La 48enne riuscì a mettersi in salvo scappando fuori ed urlando fu portata all'ospedale. Le scotte di Siena venne rimessa circa un mese dopo. Il 53enne adesso attende il processo con rito immediato. La PM Laura Taddei ha chiuso l'inchiesta La difesa dell'uomo a così 15 giorni di tempo per fare le valutazioni del caso e scegliere l'eventuale rito alternativo, quello abbreviato, che riduce di un terzo la pena in caso di condanna. Un'altra casa famiglia di Arezzo è stata chiusa per irregolarità che sono state riscontrate all'interno. Si tratta del terzo caso in un mese. La Polizia Municipale ha effettuato un sopralluogo domenica e il giorno dopo il Servizio Ambiente, Clima e Protezione Civile del Comune ha disposto con un apposito provvedimento la chiusura dell'attività. Tra gli ospiti, gli agenti del comando di via Sette Ponti hanno trovato 5 persone, anche 2 poi non autosufficienti. Nei confronti della struttura è scattata una sanzione e poi l'ordinanza è emessa dal Comune. La Polizia Municipale è scesa in strada anche lungo la 71 per controlli mirati, con 13 pattuglie tra Rigutino e Sant'Andrea Pigli, un tratto purtroppo noto alle cronache per gravi incidenti avvenuti anche mortali. Sono stati coinvolti quasi 5.000 veicoli, anche mediante la strumentazione idonea ad accertare la regolarità della revisione e dell'assicurazione e sono state così contestate 71 violazioni. Lungo la via Sette Ponti invece nel primo pomeriggio si è verificato uno schianto coinvolta, una moto e un'auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'emergenza urgenza, ferito un uomo di 58 anni portato in codice 2 al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. Il traffico è stato temporaneamente interrotto e deviato. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi di legge per regolamentare la circolazione. Nella notte invece lungo la 71 alle porte di Rigutino è stato travolto ed ucciso un lupo. La segnalazione arriva dal comitato emergenza Luparezzo che ha subito avvisato le forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta anche l'EMPA per il recupero dell'animale. Sulla vicenda sono intervenuti i rappresentanti del comitato che sottolineano come la presenza di questi animali si è diventando un problema di proporzioni sempre più ampie. Per parlare di questo ma anche di molto altro, il prossimo 31 marzo alle 21.15 presso la sala parrocchiale della chiesa del Santi Quirico Giuditta a Rigutino si terrà il secondo incontro aperto alla cittadinanza organizzato dallo stesso comitato. Voltiamo pagina adesso per parlare di politica scongiurata. La paralisi della provincia di Arezzo per la crisi politica che si era accesa dopo l'elezione del presidente Alessandro Polcri. Ieri è stato finalmente approvato il bilancio. Tanto tuonò che piove, diceva un vecchio adagio, ma in questo caso invece dopo nubi, tuoni e lampi è magicamente spuntato il sole. Il consiglio provinciale di Arezzo ha infatti approvato quasi all'unanimità il bilancio previsionale facendo dormire forse tra ieri e oggi una notte più tranquilla al neopresidente Alessandro Polcri. Il documento è stato approvato da 11 consiglieri su 12 presenti. Assente solo la consigliera della Lega, Cinzia Santoni, alla quale comunque il partito aveva chiesto un voto contrario. C'è stata poi l'astenzione da parte di Patto Civico. Tutta la querelle dunque su quotidiani e media nelle ultime settimane con il centrodestra, la Lega per la verità, che annunciava tuoni e fulmini all'indirizzo del neopresidente, Reo di essere stato sostenuto anche dalle forze di centrosinistra, si è risolto in una bolla di sapone. Anzi, come hanno detto i gruppi di centrodestra, ma non solo, che hanno votato sì in un atto di responsabilità amministrativa. Il sì è arrivato dal gruppo del centrosinistra per Arezzo, cinque voti, dal gruppo del centrodestra altri cinque voti, più quello del presidente Alessandro Polcri, che così salva bilancio e poltrona. Oggi è tornato a riunirsi anche il Consiglio Comunale di Arezzo, con un cambio nella sua composizione dopo la sospensione di Bardelli, subentra Luci. Ho scelto di fare questa candidatura nel 2020, proprio perché non mi piace essere una persona passiva nella vita della città, ma voglio nel mio piccolo cercare di portare il mio contributo e grazie al gruppo di Oraghinelli potrò dare vita a questa mia volontà, chiamiamola così. Fabio Luci, 34enne geometra, subentra in Consiglio Comunale a Roberto Bardelli per il periodo corrispondente alla sospensione di quest'ultimo, la sospensione relativa alla condanna in primo grato di Bardelli nell'ambito del processo Coingas nel filone multiservizi. Luci era stato il primo di non eletti nella lista Oraghinelli 2025 alle elezioni amministrative dell'autunno 2020, oggi il primo giorno da consigliere comunale, non senza un pizzico di emozione. Non è una cosa di tutti i giorni rappresentare la cittadinanza nella sala comunale, quindi è la prima volta, da libero professionista geometra, non capita neanche tanto spesso, almeno nella mia professione e nella mia esperienza relativa, a parlare a una platea così importante. Quindi sono emozionato, orgoglioso e pronto a effettuare questo dovere civico per cui mi sono candidato nel 2020. Sono contento, anche se per non un'occasione felice, diciamo, di subentrare al signor Bardelli, al consigliere Bardelli, a cui pongo i miei saluti e farò questo lavoro nel miglior modo possibile, mettendo la mia disponibilità, la mia competenza professionale e umana al servizio della collettività. Tra le pratiche approvate dal Comune, anche quella relativa, il fatto di poter sfruttare la possibilità introdotta per gli enti locali dall'ultima legge di bilancio, ovvero l'approvazione di un regolamento per la definizione agevolata del contenzioso tributario che riproduce sostanzialmente le previsioni contenute nella normativa nazionale. La fattispecie riguarda tutti coloro che hanno una controversia avviata entro il 31 dicembre 2022. Questa potrà essere chiusa anticipatamente con il vantaggio per il contribuente di versare una somma pari al solo contributo o inferiore a seconda dello stato di avanzamento del contenzioso. Una volta pagata la specifica somma dovuta, comunque senza interessi di moro, l'aggravio e di sanzioni, si estinguono sia l'obbligazione che il contenzioso tributario. E sempre in occasione del Consiglio Comunale, con l'assessore Marco Sacchetti, abbiamo invece parlato dello stato dei lavori della rotatoria di Via Fiorentina. Via Fiorentina si farà? Io ci spero sempre. È chiaro, i lavori non stanno andando come dovrebbero andare. È chiaro, è una procedura in mano anche alla struttura tecnica del Comune e stiamo sollecitando perché chiaramente partino i lavori principali. Io me l'auguro vivamente. Prima una buca e poi tutto ricoperto in molti. Ci avete segnalato quanto stava accadendo nella zona dove dovrebbe sorgere la tanto agognata rotatoria di Via Fiorentina ad Arezzo. I lavori principali non sono ancora iniziati. Le ruspe e gli operai erano per un lavoro a corredo, come spiega l'assessore alle grandi opere del Comune di Arezzo, Marco Sacchetti. Allora, è stata ricoperta perché l'opera che è stata realizzata è un'opera propedeutica alla realizzazione dello snodo ferroviario. È uno spostamento di una fognatura delle acque meteoriche, che è stata realizzata con una tecnica speciale che si chiama del macrotunneling e una volta realizzata è chiaramente una fognatura e quindi si ricopre perché sta sotto terra la fognatura. Quindi nulla di preoccupante. Ne verrà fatta a breve, spero, un'altra perché è uno spostamento di una fognatura nera che seguirà la stessa iter. Quindi verrà fatto uno scavo, una buca, verrà spinto questa tubazione nel sottosuolo e poi verrà ricoperta. Quindi è tutto normale. L'auspicio è chiaramente che inizino quanto prima i lavori principali, perché questi sono lavori a corredo. Indubbiamente è una stagione difficile per le opere pubbliche. Il sistema è quanto mai intasato per l'affanno anche di riuscire a completare alcuni lavori finanziati con i fondi del PNRR, obiettivo che sembra piuttosto complicato. Allora, l'opera, quella lì nella fattispecie, non è finanziata con i fondi PNRR. È chiaro che c'è una criticità generale sul PNRR, ma non solo. Anche a Rezzo abbiamo circa 30 milioni di opere extra via Fiorentina sul PNRR che non so se riusciremo a realizzarle entro il 2026, come richiesto dalle direttive. Ma questo riguarda tutto il Paese, riguarda tutta l'Italia. Infatti ne stanno parlando ora anche a livello nazionale di scadenziare un po' le tempistiche. Perché il problema poi, al di là dei problemi specifici del singolo appalto che ci sono, via Fiorentina ha delle specificità, dei problemi annosi che hanno prodotto dei ritardi, delle evitazioni dei costi, però c'è un problema generale. Dal mio punto di vista non c'è, come dire, le risorse umane, la forza lavoro per fare tutti questi appalti. Quindi anche le imprese, come dire, tendano, detto volgarmente, a tappare un po' buchi. Un po' lavorano in un cantiere, un po' lavorano in un'altra, questo a livello generale. Quindi sono problematiche che si sommano e fanno sì che i lavori ritardano in maniera estrema. C'è stata una levitazione dei costi dovuta a due fattori. Un fattore internazionale, che è il fattore ovviamente legato alla guerra dell'Ucraina e al costo delle materie prime. In Italia c'è stato un effetto moltiplicativo, che è il super bonus, che ha fatto sì che chiaramente le materie prime schizzassero più rispetto a quando sono schizzate come prezzi in Francia. E questo ha prodotto, nella prima fase post-Covid, un rallentamento dei lavori, perché non c'era ancora una norma specifica che dava garanzia all'impresa di adeguamento dei prezzi. E quindi le imprese non lavoravano, perché se io lavoro ci rimetto. Semplifico. Poi dopo il legislatore ha prodotto delle norme sull'adeguamento dei prezzi, la revisione dei prezzi, che tuttora c'è, però è chiaro che poi gli importi sono esplosi. Passiamo all'economia. 400 posti in più di lavoro da assegnare entro la fine del 2023. È quanto prevede il nuovo imponente piano assunzioni su scala nazionale del gruppo Prada, che avrà anche importanti risvolti ad Arezzo. Un'altra buona novità per questo territorio, dopo la notizia dell'acquisto da parte dell'imprenditore Patrizio Bertelli dell'immobile del Caffè dei Costanti, che si è giudicato con un'offerta di 1.600.000 euro. Cambiamo adesso argomento. Pasquale Macri, direttore della Medicina, legale e responsabilità sanitaria della Toscana Sud-Est, è stato chiamato a far parte del tavolo tecnico istituito dal Ministero della Salute dedicato all'approfondimento delle questioni relative alla valutazione del risarcimento del danno alla persona non patrimoniale e alla relativa valutazione, con particolare riferimento alla lesione della salute, quale interesse costituzionalmente protetto. Macri è uno dei due medici legali nominati che fa parte del tavolo. Tra l'altro sono entrambi toscani. E adesso ci spostiamo in Valdarno, a San Giovanni Valdarno, dove sono arrivati gli esiti dell'analisi sul ponte Ipazia. I risultati della campagna di indagini di fatto certificano un buon livello di conservazione della struttura del ponte, che ha permesso di poter approfondire anche delle indagini sulla struttura e la resistenza strutturale del ponte. Dalle verifiche preliminari, che sono ancora in corso di esecuzione, emerge che non ci sono problemi di sicurezza legati alla transabilità del ponte per carichi ordinari, quindi le macchine e gli autobus che lo attraversano tutti i giorni, mentre attualmente sono ancora in corso di esecuzione le verifiche per verificare la transabilità per i trasporti eccezionali di peso superiore alle 25 tonnellate, che comunque già ad oggi, per le condizioni della viabilità di accesso di questo ponte, transitano per la totalità dal ponte Pertini. Il ponte Ipazia ad Alessandria di San Giovanni Valdarno è in buone condizioni di salute, a dirlo sono i risultati della campagna di indagini condotta nel luglio scorso su incarico dell'amministrazione comunale da una ditta specializzata. Un risultato voluto fortemente da questa amministrazione, che ha investito 80.000 euro di risorse proprie per approfondire il livello di conoscenza di questa, che è, oltre a essere uno dei luoghi identitari della nostra città, un'infrastruttura fondamentale per il collegamento delle due sponde dell'Arno. Il ponte, edificato a fine 800, distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato ricostruito dopo il conflitto. Lo studio adesso ha permesso di reperire informazioni sui materiali e dettagli costruttivi dell'opera. Inoltre è stato eseguito un rilievo integrato, laser scanner e fotogrammetria da drone, per ricostruirne sia la geometria che lo stato di conservazione, che è buono. Questo rappresenta sicuramente un risultato importante, sia per la sicurezza dei cittadini, che tutti i giorni attraversano questo ponte, sia perché è una base conoscitiva fondamentale per poter portare avanti i futuri step per la progettazione di un'altra infrastruttura molto importante, che è la ciclopista che attraverserà l'Arno, realizzata con i fondi della Convenzione di Autostrade, che collegherà il traffico ciclopedonale di pedoni e biciclette delle due sponde dell'Arno, e che alla luce dei risultati di questa campagna d'indagini potrà essere inserito tra i possibili scenari anche la possibilità di realizzare la passerella in affiancamento alla struttura esistente del ponte. Ad Arezzo questa mattina Pietro Grasso, ex procuratore nazionale antimafia ed ex presidente della Senato, ha incontrato alcuni giovani studenti a retini. Da adolescente e giovani studenti come noi, aveva già la volontà di combattere contro la criminalità organizzata e l'indegalità? Sì, io devo dire che ho maturato alla vostra età, un po' più grande, l'idea di fare il magistrato. Pietro Grasso, ex procuratore nazionale antimafia ed ex presidente del Senato, colleghe ed amico di Giovanni Falcone, da 40 anni sotto scorta, faccia faccia con gli studenti dell'Istituto Comprensivo Piero della Francesca di Arezzo. C'è stato un momento della sua vita in cui ha avuto paura di morire? Certo che c'è stato. Un appuntamento nell'ambito del progetto nazionale Incontro con l'autore per permettere ai ragazzi di confrontarsi con i grandi protagonisti delle istituzioni civili. C'è bisogno proprio di questi incontri anche con chi ha vissuto sulla propria pelle e continua comunque a vivere, considerato la vita scortata che continua a vivere. Gli studenti hanno dialogato così con Grasso sul suo ultimo libro, Il mio amico Giovanni. Se lo portavano dietro e quindi quando c'era una pausa di, per dire, ad un compito, terminava prima, molti facevano la loro lettura autonoma in classe, lo tiravano fuori dal libro. E assistere a questo è stato molto commovente perché abbiamo centrato nell'obiettivo. Come è stato lavorare con Falcone Borsellino? Ah, è stata una cosa bellissima perché per me sono stati dei maestri. E mi manca i suoi consigli, la sua guida, la sua visione strategica nella lotta contro la criminalità organizzata nazionale e internazionale. E poi mi manca la sua amicizia, la sua mano sulla spalla quando dovevo prendere una scelta difficile. Un viaggio nella legalità sotto il segno della lotta alle mafie e alla criminalità alla luce di alcuni degli eventi più drammatici della storia recente riletti da chi ne è stato diretto protagonista. Perché parlare di Giovanni Falcone ai ragazzi? Perché rappresenta dei valori, degli ideali che sono ancora attuali e sono utili per la formazione di un futuro migliore per loro ragazzi e per il nostro paese. Preoccupa ancora oggi la mafia? Beh, certamente, ancora di più perché non è più visibile come un tempo. E quindi si annida dove meno te l'aspetti, devi scoprirla, devi fare molta attenzione. Che testimone vuole lasciare oggi a questi ragazzi? Beh, intanto ho la testimonianza della mia vita e della mia amicizia con gli amici. Da liceo economico, sociale e colonna con il supporto di un'azienda del territorio arriva un progetto per ridurre lo spreco alimentare nei ristoranti e aretieni grazie alle doggy bag. È stato così strutturato un percorso di sensibilizzazione, informazione e educazione sull'importanza di recuperare il cibo rimasto nei piatti. L'obiettivo radicale nei locali pubblici cittadini ma anche nella clientela è una buona prassi particolarmente diffusa all'estero per evitare di buttare alimenti ancora commessibili con gli studenti che hanno scelto di proporre questa esperienza a 10 ristoranti del territorio. E adesso passiamo alla pagina della cultura, come noi l'albero cambia, è il titolo del concerto che nasce a conclusione del progetto Piano delle Arti Teatri al centro. Vediamo il servizio. Come noi l'albero cambia è la metafora della vita e al tempo stesso il titolo emblematico della performance teatrale e musicale che nasce a conclusione del progetto Piano delle Arti e Teatri in rete. È stata costituita una rete formale fra tutti gli istituti che hanno all'interno della provincia un corso di educazione musicale, di strumenti musicali, ma la rete è stata realizzata a più livelli fra noi dirigenti ma anche una rete che ha visto coinvolgere e lavorare insieme i docenti delle scuole, docenti di strumento, di educazione musicale, ma soprattutto i nostri ragazzi e le nostre ragazze che si troveranno a creare un unicum, quindi un'orchestra nuova e diversa insieme ai propri compagni e compagni di tutta la provincia. E quindi insomma è un prodotto assolutamente unico e originale e per noi molto bello. Le scuole attraverso laboratori teatrali tenuti nei vari istituti hanno prodotto collettivamente il racconto, il filo narrativo dello spettacolo. La musica è stata riarrangiata dal professor Milani che è della scuola media Cisalpino, i testi teatrali che verranno recitati o letti sono stati scritti dai ragazzi supportati dalle associazioni teatrali del territorio e poi si è costituita un'orchestra formata dai ragazzi di tutte e otto le scuole che è diretta da un nostro insegnante del liceo musicale, il professor Tiezzi. Tre gli appuntamenti in programma. Che andranno in scena questo fine settimana, a cominciare da venerdì sera al Teatro Antei di Prato Vecchio alle ore 20 e 30, poi il sabato alle ore 21 al Teatro Petrarca di Arezzo e la domenica pomeriggio al Teatro Masaccio di San Giovanni. Venerdì 31 marzo invece è in programma nella chiesa di Santa Maria della Pieve l'evento corale concerto di Pasqua, una melodia per Siria e Turchia. Saranno protagonisti del concerto il coro giovanile Voce in Canto e il coro Cantori di Vita con la presenza anche di Unicef. Il concerto sarà l'occasione per fare una piccola donazione ed aiutare le popolazioni colpite dal sisma. Passiamo adesso alla pagina dello sport, siamo alla vigilia dello scontro contro il Grosseto che si giocherà alle 14.30 a porte chiuse nel campo neutro dello stadio Lotti di Poggi Bonzi. Sentiamo le parole di Mirko Lazzarini. Mirko Lazzarini, siamo alla vigilia della partita contro il Grosseto, si giocherà in campo neutro a Poggi Bonzi e a porte chiuse. Che effetto ti fa questa situazione? Sarà sicuramente una situazione strana perché noi siamo abituati a giocare sempre in casa perché abbiamo dei tifosi stupendi che ci seguono ovunque e ci danno sempre una mano. Vediamo cosa verrà fuori. Sette vittorie consecutive, essere inseguiti fa sempre gran paura anche se le lunghezze sono sette però anche una partita impegnativa. Sicuramente da qui alla fine non ci saranno partite facili perché ci sono squadre che comunque devono fare punti per salvarsi. Noi non dobbiamo guardarci dietro ma pensare a noi stessi e affrontare partita dopo partita e vediamo se raggiungeremo l'obiettivo. Immagino siete molto concentrati, un calo di tensione sarebbe fatale. No, bisogna come ho appena detto affrontarle proprio con la testa giusta partita per partita perché come ha dimostrato questo campionato non ci sono partite facili o squadre più scarse o più forti. Sono tutte partite sempre complicate. Per te come la vedi sia in campo che come morale? No, stiamo allenando molto bene, nello spoglatoio c'è il clima giusto. Speriamo di riuscire a ottenere tre punti anche col Grosseto. Le altre partite saranno sicuramente fondamentali. Ci credi a questo possibile salto di categoria? No, noi ci crediamo. Ne abbiamo parlato anche nello spoglatoio. Sono fondamentali queste due partite, con il Grosseto e poi giovedì con l'Ossia per poi arrivare a vedere come saremo messi nello sconto diretto con la Pianese. Che vi ha detto il mister? Il mister, come sempre, ci ha detto di non mollare, di stare concentrati sull'obiettivo perché basta poco anche per ricadere come è successo in questo campionato. L'avete incontrato anche all'andata, il Grosseto. Che impressione ti fece? Il Grosseto è una buona squadra, poi soprattutto ora che ha avuto un cambio di società ha pissato diversi giocatori talentuosi e dobbiamo affrontare questa partita con lo spirito giusto perché è veramente una buona squadra che deve salvarsi a tutti i costi. Il giocare di sabato e di domenica ha fatto la differenza secondo te in questo campionato e anche il fatto di giocare a porte chiuse secondo te farà la differenza? Io penso che sul giorno alla fine non cambia tantissimo. Cioè mentalmente magari se vedi il risultato dell'altra squadra o il tuo magari qualcosa può dare ma neanche troppo. Il discorso di porte chiuse, magari noi abituati a giocare sempre con una grande tiposeria potrebbe influenzare diciamo, però sono convinto che daremo comunque il massimo e riusciremo a nello più. Insomma lo vedete proprio come il dodicesimo uomo in pubblico. Certo, soprattutto. Quindi vi mancherà. Sicuramente ci mancherà. Questa mattina una delegazione dell'Arezzo Calcio Femminile invece ha presentato il docufilm Una Storia Impossibile ai ragazzi del liceo scientifico Francesco Redi. La proiezione si è svolta nell'Aula Magna durante l'assemblea alla presenza di tanti studenti che successivamente sono intervenuti con alcune domande molto stimolanti sia sul docufilm che sull'evoluzione e la crescita del calcio femminile in Italia. Passiamo adesso alla ginnastica. Due ori, un argento e un bronzo per la ginnastica Petrarca che esulta così ai campionati regionali individuali di artistica. I ragazzi e le ragazze della società retina sono scesi in pedana in diverse manifestazioni per confrontarsi con coetanei di tutta la Toscana e mettendosi alla prova tra più esercizi della specialità e sono riusciti ad emergere con successi ed ottimi piazzamenti che certificano la bontà del percorso di preparazione condotto nella palestra di San Clemente. Questa per stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.